La rianimazione in questo momento è pulita e questa è una buona notizia perché prima di tutto per i pazienti, molti dei quali si sono salvati e quindi abbiamo avuto un buonissimo risultato. Poi ancora abbiamo tanti pazienti in subintensiva e anche malattie infettive e questo chiaramente tarda a uscire. Perché molti di questi pazienti in questo momento sono dei pazienti che hanno altre malattie, cioè sono con Covid e non per Covid ricoverati perché la patologia prevalente è un'altra. Però essendo positivi al test chiaramente noi seguiamo le regole che li dobbiamo ricoverare in area Covid. Vista la grande asintomaticità della malattia in questa fase con le varianti che ci sono in giro del virus, pensiamo che presto si arriverà a una soluzione del tipo di ridimensionare esattamente i test. Perché probabilmente serva poco sapere che uno è positivo al Covid se poi il Covid non ha effetti, ovvero ci auguriamo che sia così. Una prospettiva rispetto a questo scenario che prefigurava lei adesso? Dipende da quando a livello nazionale si decide di allineare la normativa per quanto riguarda l'accesso ai reparti Covid degli ospedali. Noi ci auguriamo che questa normativa, cioè in qualche maniera libera tutti dal punto di vista di tutti coloro che non hanno sintomi, arrivi al più presto perché le altre patologie sono ovviamente sempre in agguato, anzi sono peggiorate durante la pandemia. Diciamo che il fatto di liberare gradualmente le aree Covid ci sta dando ovviamente un grande sollievo perché molte delle persone che erano impegnate lì tornano al loro luogo d'origine.